Pesarese arrestato per droga a Valencia, fui coinvolto in un incidente mortale Grave un ciclista investito a Pesaro, soccorso in elia ambulanza Turismo in primavera, previsto importante incremento di presenze Le luccele di Sparca, le Miralfiore in anteprima nazionale VL, la corsa a salvezza, passa per Reggio Emilia Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, venerdì 22 marzo, che apriamo con diverse notizie di cronaca Un pesarese latitante è stato arrestato a Valencia in Spagna in seguito ad un mandato d'arresto europeo Si tratta del 36enne pesarese Marco Razzietti, sulle quale pendeva una condanna a tre anni di reclusione per i reati connessi allo spazio di droga Orazietti salì alla ribalta della cronaca pesaresi in quanto coinvolto in un incidente stradale nelle Siligate nelle giugno 2019, nelle quale morirono tre persone fra cui la compagna Silvio Luccarelli, che era a bordo con lui oltre ai coniugi sessantenni Roberto Carosio e Oriella Bonerba Orazietti fu condannato per omicidio stradale in concorso per l'accusa di aver tirato il frenamano creando di fatto il testacoda fatale una condanna in attesa del risponso della Cassazione E ancora cronaca perché a Bologna invece è stato arrestato un truffatore seriale di 49 anni che fra il 2006 e il 2013 è stato accusato di aver commesso svariati raggiri e furti fra Bologna, Pesaro e Ferrara una pluralità di reati commessi fra il 2006 e il 2013 che lo ha portato a accumulare una pena di 8 anni e 9 mesi E le immagini che vi mostriamo ora sono state inviateci da un nostro telespettatore che ringraziamo e riguardano un incidente stradale avvenuto attorno alle ore 15 a Pesaro all'incorso fra via Giolitti e via Andracosta Un ciclista di 50 anni è stato investito da un'automobile La ricostruzione delle sinistro è al vaglio della polizia locale L'ambulanza è intervenuta, vista la gravità delle ferite riportate e ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso con annesso trasporto alle torrette di Ancona E lasciamo ora la cronaca andandoci ad occupare di turismo È arrivata la primavera, si avvicina la Pasqua e la bella stagione porta già riscontri positivi come ci ricordi in questa intervista il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti Dal riscontro che abbiamo dai nostri associati dell'impresa alberghiere sia della costa ma anche dell'entroterra abbiamo un dato molto positivo è un dato che è dal 15 al 20% di incremento delle presenze turistiche alla luce delle prenotazioni, delle conferme e tutto ciò è dovuto sicuramente al fatto che le marche hanno una maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale perché ci sono anche molti stranieri ma anche l'attrazione di Pesaro Capitale della Cultura 2024 abbiamo direttamente diversi gruppi che verranno a Pesaro in questo periodo pasquale e anche subito la settimana dopo di Pasqua abbiamo l'inizio della settimana cicloturistica di Gabice Mare che porta sempre tanti stranieri lungo le nostre coste e poi abbiamo un altro dato sorprendente noi abbiamo organizzato a Pesaro il meeting nazionale dei direttori di Federalberghi quindi dei direttori provinciali di Federalberghi che era stato immaginato nel mese di giugno abbiamo dovuto spostare a novembre perché non c'erano disponibilità di camere quattro stelle per ospitare i direttori del nostro sindacato del mondo turistico quindi questo vuol dire che insomma Pesaro grazie a Pesaro Capitale della Cultura la provincia grazie alla nuova immagine che le marche hanno a livello internazionale grazie anche all'itinerario della bellezza che noi proponiamo in tutta Europa in tutta Italia ha un riscontro estremamente positivo e il governo ha approvato ieri il cosiddetto contratto di programma fra ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un accordo che consente un'accelerata sulle programma di realizzazione di Galleria della Guinza completamento della Fano Grosseto e Pedemontana vigorosa accelerata per Galleria della Guinza completamento della Fano Grosseto e Lotti della Pedemontana il governo ha approvato infatti il contratto di programma fra ANAS e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che per quel che riguarda le marche recepisce di fatto le linee del piano regionale delle infrastrutture Marche 2032 Per il 2024 e per gli anni a seguire sono state recepite due grandi opere della nostra regione per la prima volta nella storia dei contratti di programma ossia il completamento della Fano Grosseto e della Pedemontana che collegherà Urbino con Ascoli Piceno già nel 2024 il finanziamento del primo stralcio della Pedemontana Nord tra Fabriano e Sassoferrato che si aggiunge all'accordo con i fondi di sviluppo e ecusione firmata da Qualagna dal Presidente Giorgia Meloni con cui era previsto ed è previsto il completamento di altri tratti della Pedemontana Nord come il bypass di Cagli ma ancora per il 2024 il completamento di alcuni lotti della Pedemontana nel centro-sud della nostra regione ma c'è di più perché il 2025 prevede sempre sulla Fano Grosseto la realizzazione delle varianti di Mercatello sul Metauro ed Urbagna nonché anche il completamento del lotto tra la E45 in territorio Umbro e la Galleria della Guinza oltre nel territorio di Macerata alla realizzazione dell'intervalliva tra San Severino e Tolentino e gli altri lotti della Pedemontana nel centro-sud della nostra regione a seguire non solo il completamento della Pedemontana ma tutto il completamento della Fano Grosseto con la realizzazione anche della seconda canna della Galleria della Guinza e saranno tempi rispettati quelli per la scuola Anna Franca e di Santa Maria delle Fabrecce dopo essersi sganzato da invitagli le comune di Pesaro rispetta la scadenza del 31 marzo per non perdere i fondi PNRR destinati alla demolizione e ricostruzione dell'edificio come ricordato oggi dall'assessore alle fare Riccardo Pozzi le comune ha affidato le cantiere a Gambini Restauro di Pesaro Impie di Urbagna Zolfanelli Impianti di Pesaro e Cancellieri Costruzioni e Restaure di Apecchio associazione temporanea di imprese che inizierà l'intervento già dei primi giorni di aprile l'intervento da 3,6 milioni interamente finanziato dalle PNRR restituirà a Pesaro entro marzo 2026 una scuola al top dell'efficientamento energetico e la giunta delle comune di Fano ha approvato invece il progetto esecutivo della nuova biblioteca federiciana il costo stimato per la realizzazione del nuovo polo culturale progettato dallo studio Mario Cucinella Architects è di 10,5 milioni di euro 2 milioni e mezzo sono stati intercettati da fondi PNRR a colare la progettazione delle recupero e il nuovo ampliamento della storica biblioteca cittadina è stato chiamato l'architetto di fama internazionale Mario Cucinella e oggi 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua una ricorrenza che Marche Multiservizi ha voluto celebrare questa mattina installando una nuova casetta dell'acqua a Gradara aumentando così le possibilità di consumo di acqua dall'acquedotto quindi un'acqua di qualità controllata economica e che evita l'utilizzo di plastiche vediamo in occasione del 22 marzo giornata mondiale dell'acqua Marche Multiservizi che gestisce il fabbisogno idrico sul territorio inaugura l'ennesima casetta dell'acqua collocata in via Bologna si tratta della seconda casetta installata nel comune di Gradara un taglio del nastro del dispositivo realizzato da Adriateca Acque con il contributo di Ato 1 Marche Nord accompagnato nell'occasione dalla presenza degli alunni della scuola primaria Ginostrada di Gradara ai quali è stato rivolto il messaggio di sensibilizzazione verso un bene vitale tanto prezioso quanto non scontato Gradara è da sempre attenta alle tematiche ambientali alla tutela dell'ambiente alla sostenibilità facciamo tanti lavori soprattutto insieme ai bambini ed è per questo che oggi sono sono qua con noi inauguriamo questa seconda casetta dell'acqua sì diamo importanza a quello che è il più primario per noi ma vogliamo anche farlo proprio per incentivare non più l'utilizzo di plastica e di bottiglie ma per poter utilizzare così sempre di più il vetro o le borracce che ogni bambino ormai di cui ogni bambino ormai è dotato questa continua l'opera di sensibilizzazione dell'azienda sull'utilizzo dell'acqua corrente di conseguenza l'acqua dell'acquedotto insomma perché è un'acqua di alta qualità che viene controllata periodicamente dai laboratori di analisi dell'azienda con oltre 160 analisi al giorno e quindi noi siamo contenti ringraziamo l'amministrazione comunale Adriatica Acqua che è il nostro partner per la realizzazione di queste di queste casette dell'acqua perché ci consente di fare questa opera di sensibilizzazione credo importante perché l'utilizzo dell'acqua del rubinetto delle casette dell'acqua consente ovviamente anche di risparmiare ma soprattutto di ridurre quello che è l'utilizzo dell'acqua in plastica quindi l'utilizzo della PET e la produzione di plastica e il trasporto della stessa con ovvie benefici per l'ambiente l'erogazione è possibile attivarla sia con moneta e i tagli accettati sono dai 5 cent ai 2 euro e non da resto e per non avere sempre la moneta contata con sé che non è sempre sempre facile è possibile acquistare la tessera alla cartolibreria fantasy qui di fianco il funzionamento è molto semplice questa è la tesserina si inserisce nell'apposito lettore nel display viene indicato il credito residuo della tessera e praticamente si seleziona la tipologia di acqua che si desidera e la taratura a litro quindi basta premere una sola volta il pulsante e l'erogazione si interrompe da solo a litro se si ha un contenitore diverso come una borraccia in questo caso da mezzo litro è sufficiente premere una seconda volta l'erogazione per interromperla e comunque l'erogazione viene comunque memorizzata finché non viene erogato non viene erogato il litro e la ricarica delle tessere anche qui è molto semplice perché una volta inserita la tessera è sufficiente inserire le monetine e sul display viene indicato la carica la carica residua della tessera Marche Multiservizi nel quinquennio 2022-2026 ha destinato 43 milioni di euro di investimenti al ciclo idrico integrato un bene fondamentale messo in pericolo dalle sempre più frequenti siccità e annesse crisi di approvvigionamento c'è un detto che dice non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo non si prosciuga speriamo di non dover arrivare a questo punto per apprezzare l'importanza di questa risorsa del nostro territorio e alle parco Miralfiore di Pesaro arriva lo show di Spark da questa sera a domenica tre occasioni per assistere al cosiddetto spettacolo delle lucciole ideato dall'artista olandese Dan Rosengard gli eventi di Pesaro capitale della cultura 2024 varcano la soglia di primavera e inaugurano la stagione degli eventi all'aperto lo fanno nell'anfiteatro del parco Miralfiore ospitando tre serate di ingresso gratuito per l'opera Spark ideata un anno e mezzo fa dall'artista olandese Dan Rosengard uno show visivo tecnologico che dopo essere stato applaudito a Londra Madrid Tokyo o Melbourne arriva a Pesaro in prima nazionale si comincia questa sera per continuare sabato 23 e domenica 24 marzo sempre dalle 20 alle 23 Spark che letteralmente significa scintilla metterà in scena una sorprendente performance di luci che ricorderanno il fluttuare delle lucciole attraverso fuochi d'artificio organici e biodegradabili come spiegato dallo stesso artista nella presentazione di questa mattina nella lusfera di Piazza del Popolo tutto è nato perché volevamo creare qualcosa che portasse della curiosità alla creazione di un nuovo futuro dove però non ci fosse la paura per le celebrazioni infatti abbiamo parlato anche dei fuochi d'artificio che possono essere sia molto belli però hanno sicuramente anche dei lati negativi tra cui uno tra questi è sicuramente quello dei cani che hanno molta paura a causa dei rumori e infatti anche l'inquinamento è un problema dei fuochi d'artificio perché creano dieci volte più inquinamento di qualsiasi altra cosa e quindi noi vogliamo creare qualcosa che sia silenzioso utilizzabile ma allo stesso tempo anche biodegradabile Pasolini Pasolini ha proprio scritto in uno dei suoi testi a proposito delle lucciole e della loro scambarsa infatti viene espresso come un simbolo di disconnessione proprio tra l'umanità e la natura con Spark noi vogliamo portare a un futuro migliore un futuro più rosio in modo tale che ci sia proprio questa riconnessione tra l'uomo e la natura e quindi siamo molto contenti di poter fare questa collaborazione qui in questi giorni uno spettacolo pensato su misura al claim la natura della cultura di Pesaro 2024 Spark è un po' il progetto paradigmatico del nostro programma culturale perché con un espediente straordinariamente leggibile delicato direi quasi infantile ci fa invece riflettere su una questione straordinariamente invece importante ovvero tutti quei processi di trasformazione che stanno avvenendo nel nostro ambiente naturale e urbano di cui spesso però non siamo consapevoli ecco noi davanti a queste lucciole che brilleranno nel cielo pesarese penseremo a tutti quegli habitat che in realtà stiamo perdendo inconsapevolmente e quindi invitiamo così come fa l'opera di Dan che spesso viene definita una protopia cioè un'opera che in realtà attiva un processo di attivazione da parte del pubblico di agire sui nostri comportamenti e non solo per poter trasformare un po' il nostro quotidiano e lasciare in eredità alle prossime generazioni qualcosa di diverso e soprattutto di non devastato il fatto che si tengono al Parco Miralfiore che è un po' diciamo un simbolo per noi anche di sostenibilità di bellezza anche di incontro è un significato ulteriore che vogliamo dare a questa capitale portando un'anteprima nazionale in un'opportunità che ha girato altre città del mondo capitali insomma in questo caso è una capitale della cultura e quindi un'opportunità quasi unica per poterla vivere aperta a tutti per tre giorni insomma siamo molto felici di questo tipo di combinazione voglio ringraziare anche Biper naturalmente per essere stato a partner con noi dell'operazione noi siamo ben lieti di averla sostenuta sin dal primo momento quando abbiamo capito la portata di questo evento per la sua rilevanza anche ambientale abbiamo pensato che fosse l'evento diciamo anche iconico di questa di questa manifestazione e per la nostra caratteristica di banca molto attenta alle attività culturali abbiamo ritenuto fosse il momento e l'evento giusto da sostenere e da Pesero 2024 al progetto 50x50 capitali al quadrato questo weekend infatti termina la settimana da capitale per quanto riguarda le comune di San Costanzo e comincia quella di Gabice Mare con il suo festival degli sguardi nel progetto 50x50 capitali al quadrato di Pesero 2024 spetta a Gabice Mare l'onore della prima settimana di primavera traghettata fino al weekend di Pasqua il comune più settentrionale della costa marchigiana si propone con il festival degli sguardi degli sguardi allargati oltre i confini comunali abbiamo voluto denominare la nostra settimana il festival degli sguardi che comprenderà un territorio più esteso quindi va oltre i confini del nostro comune perché riguarderà la riviera del San Bartolo di cui fanno parte oltre a Gabice Mare anche i territori del San Bartolo siti nel comune di Pesero per poi arrivare fino a Gradara i momenti più importanti sicuramente saranno dislocati su tre parti le due parti Gabice e Pesero quindi San Bartolo partiranno quasi in contemporanea perché il 24 marzo quindi domenica inaugureremo presso la sede del parco Fiorezzola di Focara una mostra molto particolare proprio perché va a richiamare uno dei temi che caratterizza il festival della cultura Pesero 2024 che è quello della natura quindi riusciremo ad ospitare la mostra di archeoplastica che è conosciuta in tutto il territorio nazionale perché ha avuto la capacità di raccontare l'inquinamento del mare quindi attraverso la raccolta di plastiche site nel mare quindi una raccolta che è iniziata negli anni 50 e finita negli anni 80 un'installazione che è nata e sta girando l'Italia dal 2018 ad oggi dal prologo di Gradara all'esperienza immersiva sul San Bartolo che dal lunedì al Mississippi si instraverà su un percorso in linea a quello già intrapreso a Pesero con sonosfera e biosfera sarà un'immersione in una stanza dove andremo a scoprire con immagini molto particolari quindi contenuti che andranno a far scoprire a chi non lo conosce ancora il nostro merveglioso territorio quindi dal mare al parco del San Bartolo quindi sarà una piena immersione una piena esperienza sensoriale visiva che sicuramente attrarrà tanti ospiti sarà un catalizzatore importante un programma che poi si diramerà nell'accogliere fotografi di fama internazionale esperti di comunicazione come Paolo Iabichino il filosofo Paolo Ercolani lo scrittore Marco Ardemagni e ancora mostre e concerti diffusi sul territorio dal sabato sera in musica con Giovanni Cricca alla domenica con Joyce Jules a conferma della tradizione disco di Gabice col festival disco d'Iva un programma veramente intenso che rafforza in maniera decisiva quella che è la settimana da capitale per cui naturalmente ringraziamo i comuni di Gabice la giunta l'amministrazione per tutto il bene che abbiamo messo gli artisti coinvolti gli scrittori tutti quelli che parteciperanno i fotografi e anche naturalmente la cassa del risparmio perché è un programma molto ricco molto potenziato grazie al fatto che il comuni di Gabice sia giudicato anche il bando che la cassa del risparmio ha emesso proprio emanato proprio per rafforzare la proposta dei comuni che sono proposti più in linea per la capitale della cultura e quelli che vi mostriamo ora sono il manifesto e la sigla che rappresentano la sessantesima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema in programma a Pesaro dalle 14 alle 22 giugno 2024 in attesa di scoprire gli ospiti il programma della nuova edizione delle festival che quest'anno in occasione della sua importante celebrazione del sessantesimo compleanno nell'anno di capitale della cultura può contare anche su un giorno in più di programmazione l'artista Gianluigi Toccafondo firma la locandina e la sigla che vogliono rappresentare l'anima di un festival e da sempre attento al nuovo al cambiamento all'evoluzione ma allo stesso tempo con uno sguardo rivolto con passione alla storicità e alle radici del cinema e concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport domani alle 17.30 un match delicatissimo per la vice Pesaro che si ritrova in zona play out e che sarà in Sardegna per sfidare la Torres seconda forza del torneo un big match che attende però anche la Megabox Vallefoglia che domenica alle 17 affronterà le pala Megabox la vero volley Milano nell'ultimo match di regolare season sempre domenica alle 14.30 impegno in trasferta per la Fiorini Pesaro Rugby in casa delle Casale mentre la VL alle 18.15 domenica ospiterà Reggio Emilia per retentare le bis dopo la vittoria contro la Virtus Bologna un match che ha esaminato oggi in conferenza stampa coach Meo Sacchetti Dopo l'impresa dello scorso weekend contro la Virtus la VL si prepara ad un'altra gara davanti al proprio pubblico l'avversario di turno è Reggio Emilia quinta forza delle campionate reduce ad una prestazione pressoché perfetta ai danni di Varese per coach Sacchetti è fondamentale ripartire dall'atteggiamento visto nelle ultime due partite casalinghe dopo la partita di di Brescia se facciamo ancora un passo indietro vuol dire che abbiamo capito poco e allora sarebbe veramente tragico l'atteggiamento penso che sia la cosa primaria per una VL che in campionato non ne ha mai vinte due di fila sarà necessario replicare l'ottima difesa e la concentrazione messa in campo contro Bologna non è stata facile sicuramente perché voglio dire è logico che a Virtus mancavano un paio di giocatori ma la fisicità che hanno loro riuscire a pareggiare rimbalzi è stata la parte importante e la parte importante è che quando siamo andati sotto anche di sei punti poteva esserci un po' di scoramento invece siamo stati bravi a riprendere abbiamo rischiato di perdere con i tiri liberi sbagliati però alla fine penso che ce la siamo meritata Biancorossi che puntano anche sulla continuità dei propri giocatori italiani nello spazio che ha uno si deve meritare quello che ha fatto Mazzola sicuramente è stato importante ci ha preso 11 rimbalzi Tambone non sappiamo benissimo il suo valore in difesa perciò sicuramente non possiamo non andare avanti sotto questo aspetto speriamo di recuperare adesso anche qualche giocatore americano che in questo momento ci servono tutti e con quest'ultima notizia di sport termina qua questa edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo la programmazione per questa sera a cominciare subito dopo questa edizione del nostro telegiornale potremo vedere il nostro approfondimento dedicato alla natura della cultura magazine tutti lunedì mercoledì venerdì agli orari che vedete in grafica alle 8 alle 13 alle 20 quindi questa sera non perdetevi questo importante approfondimento che vi ricordiamo anche potrete rivedere nel riassunto della settimana sabato alle 12 alle 19 domenica alle 15 e alle 21 prima serata di questa sera alle 21 che invece è dedicata allo speciale tv che abbiamo realizzato in occasione della terza giornata della cultura artigiana intelligenza artificiale complementarietà all'equazione dell'intelligenza artigiana e vi ricordo anche il consueto appuntamento con la rassegna stampa domani mattina saremo in diretta come sempre alle ore 7 20 in diretta sulla nostra app sul sito e anche su facebook repliche 8 20 12 20 14 20 18 20 domani mattina ci sarà Marco Cadeddu ed è davvero tutto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana